Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Nicola Carraro, intervistato dal settimanale Nuovo TV, ha svelato la grande ossessione della moglie Mara Venier per le pulizie domestiche. Secondo quanto raccontato dall'uomo, la conduttrice di Domenica Inn lo sveglia tutte le mattine alle 6 per aiutarla con le pulizie di casa, senza curarsi se lui stia ancora dormendo. Addirittura Mara Venier arriva a preparare il pranzo per la colf, rubando il lavoro alla domestica. La zia nazionale, come viene affettuosamente chiamata, si alza presto al mattino e pretende che il marito partecipi attivamente alle pulizie domestiche. La Venier stessa ha confermato durante un'intervista al giornale che per lei le pulizie sono fondamentali e che la sua più grande soddisfazione è vedere la casa pulita e i vetri lindi. Addirittura si arrabbia se il marito fa cadere la cenere sul divano, dimostrando di essere davvero maniaca dell'igiene. Insomma, Mara Venier è ossessionata dalle pulizie domestiche e coinvolge attivamente il marito in questa sua passione. Nicola Carraro ha raccontato che la conduttrice lo tormenta con le pulizie di casa, dimostrando una dedizione estrema per la pulizia e l'ordine. La zia nazionale non si ferma davanti a nulla pur di mantenere la casa perfettamente pulita in ordine, dimostrando di essere una vera Grazie a tutti. Grazie a tutti.